buongiorno sono francesco fusi sono un collaboratore dell'istituto storico toscano della resistenza dell'età contemporanea di firenze agli scorsi cantieri della resistenza organizzati dall'istituto nazionale ferruccio pari avuto il piacere di presentare una ricerca in corso su di un caso poco noto di conflittualità interna resistenza fiorentina che sfociò nella rimozione violenta di due partigiani della seconda brigata rosselli la principale formazione azionista che operò nel fiorentino si tratta di una vicenda rimossa sulla quale non esistevano ricostruzioni complessive che ho potuto meglio indagare grazie al rinvenimento di alcune fonti inedite due partigiani in oggetto tigre balilla questi nomi di battaglia furono giudicate condannati a morte dai propri comandi perché ritenuti colpevoli di subordinazione e diserzione o perché secondo altri rei di aver commesso furti e grassazioni a danno di civili l'episodio si inserisce però in un quadro più complesso che evidenzia l'esistenza di forti contrasti interni ad una stessa formazione partigiana per ragione di comando anche di profondi attriti da formazioni garibaldine azioniste che si trovarono ad operare in una medesima area nel dopoguerra questa vicenda così dolorosa fu al centro di un procedimento giudiziario contro i presunti responsabili della morte di questi due partigiani che tuttavia come molti altri processi celebrati nel dopoguerra contro partigiani risultò un attacco diretto alla legittimità della resistenza in armi anche per questo la vicenda nel dopoguerra fu rimossa e di essa se ne persero sostanzialmente le tracce riscoprire questa vicenda a partire dal recupero e dall'analisi critica delle fonti è stato il mio primo obiettivo che ha mosso appunto la mia ricerca quello della conflittualità interna alla resistenza un tema sul quale gli storici hanno fatto e continuano da molti anni a fare luce evidenziando come solo in una piccola percentuale di casi tali contrasti sfociarono in violenze e atti di sangue interni alle file partigiane e come tali conflittualità per quanto asperi non pregiudicarono mai del tutto l'unità delle diverse forze antifasciste che diressero la guerra di liberazione tuttavia si tratta come noto di un tema che al di fuori dell'ambito della ricerca si è spesso trovato al centro di numerose strumentalizzazioni e polemiche da parte dei numerosi detrattori della resistenza facendo breccia talvolta in un'opinione pubblica mainstream sprovvista di strumenti di analisi critica e per questo facilmente orientabile in senso negativo esaminare questa vicenda di conflittualità interna alla resistenza senza reticenze ma senza polemiche indagandola cioè con gli strumenti critici della disciplina storica e nell'alvio tracciato dall'ampia storiografia disponibile sul tema mi sembrava perciò un tentativo utile e un'operazione necessaria ben oltre le ragioni proprie dell'indagine storica pura nella consapevolezza cioè che la conoscenza critica della storia della resistenza della guerra di liberazione anche nei sui aspetti più grevi e dolorosi anziché indebolirne il significato il valore complessivo lo rafforzi mantenendo quella storia viva pur nelle sue contraddizioni e pertanto ancora attuale